Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo all'interno del percorso Comunità e Investitori nella seconda giornata del Salone della CSR e dell'innovazione sociale. Oggi parleremo di un tema molto di frontiera, lo facciamo utilizzando una ricerca che poi vi illustrerò rapidamente sviluppata all'interno del ESG Governance Lab di Etica News. Io sono Luca Testoni, direttore di Etica News e di ESG Business Review e oggi coordinerò questo panel che si confronta, dicevo, su un tema molto di frontiera, ovvero la ESG Digital Governance. Cosa si intende con questo termine? Si intende la capacità di gestione all'interno dell'azienda, ma non solo, la gestione attraverso una piattaforma unificata e integrata dell'enorme mole di informazione ESG che va moltiplicandosi con l'affermarsi della sostenibilità in ambito aziendale e in ambito finanziario. Oggi ne parleremo con Matteo Coller, responsabile della relazione esterna del CSR del gruppo CAP, Fabrizio Fiocchi, fondatore e CEO di ESGEO, Giancarlo Reschinia, Head of Sustainability Reporting, Mayor Tecnimo e Claudio Zamboni, co-founder e Chief Revenue Officer di FinScience che vedete qui con me nel palco. Tra l'altro questo è uno slot piuttosto anomalo all'interno delle due giorni del Salone della CSR perché siamo tutti in presenza, quindi alla faccia del Covid noi qua ci siamo ritrovati e alla faccia anche della Digital Governance. In realtà sembriamo un paradosso perché parliamo di gestione digitale delle informazioni ESG e siamo tutti presenti. Allora io comincerei con la mia presentazione, se posso, è già una sintesi di una ricerca realizzata all'interno del ESG Governance Lab nella prima parte di quest'anno siamo andati di fatto a cercare di dare uno scenario, di vedere lo scenario italiano come le aziende stanno affrontando la gestione digitale di questo complesso mondo ESG, Environment, Social and Governance. Sto ancora aspettando dalla regia il via, non vorrei essere io, ecco, pare che si stia caricando la presentazione. Ecco, vedete, ho ripreso sostanzialmente una parte di presentazione già sviluppata all'interno del nostro Lab e andrò molto rapidamente, queste sono le agende del Lab di quest'anno, evidenzio il discorso Particella ESG, con Particella ESG intendiamo la minimizzazione dell'informazione, quando si affronta il tema dell'informazione Environment, Social and Governance, prepariamoci ad avere un progressivo frazionamento dell'informazione e andremo pian piano nel percorso di affermazione di questo sistema a doverci confrontare con l'informazione minimale. Rapidamente, questo è uno schema della situazione attuale in rapporto alla particella ESG che vedete centrale, questa sorta di piccolo pianeta o di piccolo atomo, vedete, ho immaginato, abbiamo immaginato tre poli che costruiscono il sistema, gli advisor, lo stakeholder, l'investitore e l'azienda, vedete, le freccette sono molto delineate solo nella relazione tra advisor e investitore, rimangono molti margini di scambio di informazione nelle altre due direzioni. L'obiettivo di un sistema in equilibrio al giorno d'oggi è quello di avere uno scambio efficace ed efficiente tra tutti i poli del sistema. L'obiettivo nel mondo ESG però è quello di avere anche una capacità di accesso a questa particella di informazione, da parte, accesso diretto, continuativo e completo, efficace ed efficiente da parte di tutti gli operatori e questo è un passaggio che richiede l'ingresso della tecnologia, quindi di quella che abbiamo chiamato digital governance. Attenzione, vi riporto che è un documento importante da parte della Commissione europea. Quello che stiamo dicendo, cioè questa visione, è in realtà già scritta nelle carte della Commissione europea o perlomeno all'interno di una consultazione lanciata sul prossimo action plan dove si va a chiedere ai rispondenti cosa ne pensate alla creazione di un hub informativo ESG digitale che consente un accesso trasversale a tutti gli operatori. Interessante che nella stessa consultazione la stessa posizione è stata presa dalla Banca Centrale europea. Questo per dire, sono tematiche che sembrano molto distanti, sembrano futuribili, ma sono in realtà, cominciano ad apparire anche nelle carte del regolatore europeo. Arriviamo dunque alla survey, questa è la sintesi della survey che noi abbiamo riproposto all'interno del report IG Integrated Governance Index 2020. Ricordo che la survey è stata fatta come area di indagine straordinaria del nostro indice. alcuni dati, questa è la domanda su quali sono oggi gli strumenti di digital governance utilizzati dall'azienda. Vedete che c'è ancora un po' un arcobaleno di colori, sono diverse le tipologie di strumenti utilizzati, quindi una piattaforma dedicata esclusamente ai dati non financial si ferma al 24%, comunque già un quarto di aziende dice io ho una piattaforma di digital governance. Tempistica di aggiornamento, sono alcune delle domande di petto svolte all'interno dell'Integrated Governance Index 2020, area straordinaria, erano un po' di più ne ho sintetizzate. Questa è una slide che mette in luce una tematica importante della digital governance, noi oggi siamo abituati a una reportistica annuale, perché sulla scia, sull'abitudine dei bilanci tradizionali, il report è sui dati annuali. La digital governance, la ISG digital governance, cioè la gestione dell'informazione ISG, andrà progressivamente verso tempi più ridotti. Ad oggi siamo ancora a un 57% che parla di rendicontazione a livello annuale. riporto anche questa risposta per il Climate Report, è uno strumento di rendicontazione che richiede anch'esso un importante apporto in termini di algoritmi e di calcolo e di simulazioni. Vedete che è ancora molto alto la parte di società, vedete la barra del no, la quota di società che non effettua calcoli simulati per i propri signali climatici. l'accesso interno, questo è interessante vedere comunque come l'idea di un accesso alla piattaforma di ISG digital governance è immaginato per diverse tipologie in maniera direi piuttosto uniforme e comunque vince il management, cosa importante, cioè si pensa che una piattaforma di ISG digital governance debba consentire al manager di accedere alle informazioni. Utopia in realtà e qui ci avviciniamo alla conclusione. Questa è una domanda che è andata a chiedere alle aziende quello che vi ho fatto vedere prima in termini di utopia della Commissione Europea, della Banca Centrale Europea e si chiede, la società ritiene utile la condivisione di informazioni non financial con altre aziende o con stakeholder esterni. Cioè quindi vedete possibile che le vostre informazioni diventino un valore condiviso e che quindi non siano semplicemente fornite a richiesta, qui è interessante vedere che comunque ci sono delle risposte più timorose, invece comunque già un 18% dice sì per tutti i KPI, un 50% per un set di KPI, ma comunque sono quote che trovo fonte di possibile stimolo e di discussione. Ecco, possiamo chiudere la presentazione a meno che non ci serva a tenerla di sottofondo, visto che siamo in diretta, ma immagino che sia meglio toglierla. Ecco, dopo questo rapido escursus che non pretende di essere esaustivo, ma un'idea dello scenario sul concetto di digital governance credo che possa emergere, aprirei la nostra chiacchierata seguendo un ordine che mi sono dato molto semplice, un ordine alfabetico. Quindi partirei da Matteo Colle, responsabile delle relazioni esterne e SSA del gruppo CAP, con la domanda di base. Quali sono le sfide per una reale implementazione in azienda di queste tematiche? Matteo. Grazie Luca e buongiorno a tutti. Hai detto bene quando hai detto che è un tema di frontiera, perché devo dire le riflessioni sia interne che complessive su questo tema, cioè della governance digitale e del dato ISG sono ancora riflessioni che stiamo facendo un po' agli albori. E devo dire che mi stupisce il dato del 25% delle aziende che già sono pronte o sono attive in una governance del dato ISG di tipo digitale. Io faccio tre riflessioni. La prima è un tema di standardizzazione del dato, che sembra un tema tipicamente ISG, lo è tanto più il dato ISG, la particella ISG come l'hai definita, diventa una particella digitale. Oggi le aziende, anche la normativa italiana, non vincola a uno standard di rendicontazione, ammette più standard di rendicontazione. Non solo, ma le aziende, alcune aziende, faccio l'esempio della mia azienda, che è una utility, è soggetta a diversi livelli di rendicontazione, perché noi siamo soggetti alla dichiarazione non finanziaria, quindi disclosure dei dati non finanziari, ma tra i dati non finanziari rientrano tutta una serie di dati legati ad esempio alla qualità contrattuale del servizio che noi offriamo ai cittadini, della qualità tecnica, sempre del servizio che noi offriamo ai cittadini e che sono dei dati regolati da RERA, quindi dall'autorità dell'energia e dell'ambiente, che prescrive alcune standard di rendicontazione. Peraltro standard di rendicontazione che poi vengono filtrati a livello locale dalle province, dalle regioni e si applicano in maniera diversa da utility a utility, da regione a regione. E quindi noi ci troviamo spesso e volentieri a dover rendicontare nella nostra disclosure non finanziaria una mole di dati che se seguiamo la rendicontazione e lo standard GRI vanno in una direzione, se seguiamo le regole di RERA vanno in un'altra direzione e siamo costretti ad armonizzare questi diversi standard di rendicontazione. Quindi il primo tema che pongo effettivamente è la standardizzazione. Nel momento in cui la mia azienda ha iniziato ad approcciare una rendicontazione digitale, che quindi necessariamente faceva riferimento a una compatibilità e una interscambiabilità del dato tra i vari sistemi aziendali esistenti, ci siamo posti e ci siamo dovuti interrogare, e vi devo dire che non abbiamo ancora risolto il problema, di come gestire questi dati. Vi faccio un esempio. Le perdite idriche che per il GRI vanno gestite in un modo, per RERA vanno gestite in un altro modo e addirittura anche RERA è confusa su come debbano essere rendicontate, per cui abbiamo questo primo problema. Secondo tema che mi piacerebbe affrontare in questa nostra riflessione comune è il tema delle simulazioni di impatto. Noi sappiamo che nell'ambito delle rendicontazioni non finanziarie per la governance SG è fondamentale avere dei dati di impatto, perché sappiamo bene che i segmenti del dato non finanziario poi ci aiutano a simulare l'impatto sul nostro business di alcuni cambiamenti, di alcuni scenari che fanno riferimento al cambiamento climatico, al cambiamento sociodemografico. Faccio un esempio sempre riportandolo alla mia azienda. La mia azienda si occupa di servizio idrico integrato. Capite bene che gli impatti del cambiamento climatico sulle risorse idriche o l'impatti del cambiamento sociodemografico sul consumo idrico nelle città sono due fattori decisivi per, come dire, governare il nostro business. Ancora purtroppo i software e gli strumenti digitali per la simulazione dell'impatto di questi macrofenomeni e quindi sulla simulazione del rischio e dell'impatto sono molto acerbi o sono molto complessi o sono molto costosi e spesso e volentieri vengono sviluppati in alcuni casi con sistemi proprietari che sono poco ovviamente intescambiabili, proprio dialoganti. Noi abbiamo un sistema molto sofisticato di analisi dell'impatto sulla falda acquifera dei cambiamenti climatici sul nostro territorio, ma è un sistema nostro che difficilmente potrebbe dialogare con sistemi simili in altre aziende, in altre utilities e questo credo che sia un'altra sfida che la governance digitale si deve porre, proprio nella simulazione dell'impatto dei cambiamenti climatici, sociali o di governance. Terzo aspetto è l'elemento di trasparenza e qui devo dire che tu hai visto in questa tua survey le aziende abbastanza coraggiose e devo dire che qui io sono in un atteggiamento molto più riflessivo rispetto alla disclosure della particella ISG, nel senso che oggi la particella finanziaria ad esempio, se ci spostiamo dal lato finanziario, ha una disclosure in alcune forme aggregate, ha una disclosure in alcune forme molto controllate anche in termini di apertura ai mercati, di tempi di disclosure al mercato, parlo delle aziende quotate e la divulgazione della particella ISG ancora non ha questa governance così sensibile all'oscillazione di borsa, alle dinamiche di concorrenza, quindi, e parlo, voglio dire, dal pulpito di un'azienda che opera in monopolio e non è quotata e che quindi dovrebbe avere meno di questo genere di problemi, ma è assolutamente fondamentale cominciare a fare una riflessione in questi termini, perché è vero che noi facciamo disclosure nelle DNF, ma sappiamo bene che, come dire, salvo gli elementi obbligati del decreto all'interno delle DNF, come dire, le aziende riescono a fare una narrazione che è comunque molto sorvegliata, molto controllata. Pensare di andare nella direzione di una disclosure, una trasparenza della minima informazione della particella ISG è secondo me un tema interessante, è un tema che interroga soprattutto aziende come noi, che siamo aziende pubbliche e che hanno fatto degli open data un tratto distintivo, ma sicuramente deve avere una riflessione in termini di regolazione, perché parliamo comunque di informazioni che sempre di più sono decisive sui mercati e per gli investitori, quindi non è pensabile, come dire, pensare che in nome di una totale trasparenza la divulgazione delle informazioni ISG avvenga in maniera priva di una regolamentazione minima che tenga conto, diciamo così, dei mercati. Grazie. Hai messo sul piatto già tre punti importanti della discussione, mi riallaccio ai primi due, KPI e misurazione di impatto, sono la pietra filosofale, o meglio l'utopia oggi del sistema, riuscire a trovare standard condivisi e probabilmente la sfida complessiva è globale, forse la sfida prima è la sfida ultima. In termini di regolamentazione, sì, c'è molto in itinere, vedi il discorso della tassonomia, questo però per oggi ancora non è una semplificazione, ma sembra che imponga un'ulteriore complessità, un'ulteriore complessazione nel momento della rendicontazione. Certo, è anche questa una sfida necessariamente da risolvere a breve. Fabrizio Fiocchi, fondatore e CEO di Ergeo, tra l'altro il tuo brand prima è apparso nella ricerca che ho presentato, perché voi siete stati i nostri partner nello sviluppo di quella indagine straordinaria di quest'anno. Dal tuo punto di vista, quali sono le sfide per implementare in azienda questo sistema di ESG Digital Governance? Grazie Luca, buongiorno a tutti. Tendenzialmente avete già messo la mano su punti importanti, quindi il tema della digitalizzazione dei processi all'interno dell'azienda è uno degli elementi chiave. Abbiamo visto quella percentuale che stupiva, per dare l'ordine di grandezza percentuale stiamo parlando delle aziende che partecipano all'indice, quindi stiamo parlando di aziende molto grandi, non fanno parte una fetta del listino. Se noi già estendessimo quella percentuale al listino o addirittura le aziende in Italia sopra 500 dipendenti, quindi anche pubblica, la percentuale scenderebbe molto. Quindi diciamo che oggi le aziende che hanno fatto questo investimento, perché è stato un investimento consistente negli ultimi due o tre anni, nello sviluppare una piattaforma digitale per gestire questi dati, siedono sopra un processo sviluppato, come dicevamo prima, in maniera non standard, quindi all'interno di applicativi tipicamente di Enterprise Performance Management, quindi applicativi che vengono utilizzate le aziende per gestire i dati finanziari, customizzati e ritagliati per quell'esigenza. C'è tutto il resto del mondo che oggi si interroga qual è lo strumento, quale può essere la via per intraprendere quello che può essere un digital jump, quindi atterrare automaticamente e molto velocemente ad avere uno strumento efficace, riconosciuto secondo degli standard, magari certificato dagli standard che avete menzionato prima. Le soluzioni sul mercato in questo momento ci sono, sono integrate all'interno dei sistemi, sono facilmente accessibili per costi e per funzionalità, quindi sicuramente la tecnologia da questo punto di vista oggi è pronta a fornire questo tipo, e nel esempio Sgeo, quello che facciamo è proprio questo, cioè quello che abbiamo fatto è colmare in questo momento un gap, che è quello di passare da configurare qualcosa che è una piattaforma, una piattaforma ad avere una soluzione che ha già dentro tutti i contenuti, quindi tutte le tabelle secondo gli standard eccetera. Però a prescindere dallo strumento, a me sembra chiaro che hai citato prima il legame tra le aziende e gli stakeholder, gli investitori, quel legame oggi c'è un duplice interesse da parte dell'investitore a conoscere, non so se il dato puntuale, la particella singola, però poter analizzare i dati direttamente dalla fonte, sono sempre di più gli investitori, le mie esperienze progresse sono quelle, io vengo dal mondo del finance, che dichiarano di avere proprie metriche per giudicare i propri investimenti, le aziende che finanziano. Dall'altra parte ci sono le aziende, che soprattutto in Italia sono molto virtuose da un punto di vista sostenibilità, quindi oggi le aziende italiane hanno la necessità di comunicare la propria virtù, non hanno necessità di migliorare i propri parametri rispetto agli standard internazionali. Se noi per anni abbiamo visto le aziende italiane recuperare spazio da un punto di vista industriale nell'ecosistema facendo leva sulla qualità, e poi magari torniamo la circolare economy dove la qualità e la durata del bene è uno dei parametri fondamentali. Quindi abbiamo un futuro come italiani, l'industria italiana da questo punto di vista. Il gap che dobbiamo fare, che in parte le autorità hanno compreso, ma anche Confindustria, è quello di comunicarlo, quindi di estendere sostanzialmente il perimetro con cui noi comunichiamo queste variabili. Di nuovo questo legame tra le aziende e gli stakeholder esterni, investitori o qualsiasi stakeholder, anche il consumatore, può essere colmato soltanto se l'azienda si dota di uno strumento tecnologico per raccogliere queste informazioni. Banalmente se io vado sul mercato a dichiarare che il mio management ha un premio di fine anno legato ai fattori non finanziari, se quell'azienda è quotata io devo avere un presidio su quel flusso informativo, perché in qualche maniera devo dimostrare che i soldi che sto dando a quel management per quei parametri sono stati controllati, sono editabili, sono ricostruibili e quindi sono controllati. Non posso farlo come se leggo lì il 75% non ha un sistema dedicato, vuol dire che fa tutto coi fogli Excel e mail, 30 anni fa lo facevamo per i dati finanziari. Quindi per fare, colmare questo gap ed essere compliant, in questo Consub è stata molto chiara, nel momento in cui andrà e entrerà nella revisione del DNF sarà molto molto attenta a qual è il processo digitale con cui vengono raccolte queste informazioni. E raccogliere centinaia di fogli elettronici per aggregare l'impatto di CO2, i consumi d'acqua dai vari siti di un'azienda e palleggiarseli per mail non è proprio il modo più strutturato per farlo. Perfetto. Bene, torniamo a questo punto al lato industriale. Stiamo facendo un ping pong perché partiamo con un'azienda, andiamo su una situazione di analisi e di dati, torniamo all'azienda e poi chiuderemo ancora con una situazione di analisi. Giancarlo Ereschigna, Head of Sustainability Reporting, Matt Techemont. Questo è un tema a cui immagino il tuo pane quotidiano e forse anche i tuoi incubi notturni per certe cose, la tassonomia eccetera eccetera. Cosa ne pensi? Qual è la sfida per riuscire a agevolare, rendere più efficace e come dice Fabrizio anche per rendere sicure queste tipologie di informazioni? Voi tra l'altro siete una società quotata quindi avete anche l'occhio del regolatore sulla severazione delle informazioni. Innanzitutto condivido tutte le riflessioni dei colleghi, giustissime. Aggiungo a questo punto un altro fattore nel ragionamento, portando un esempio concreto che vivo, che stiamo vivendo. Le informazioni ISG sono fondamentali oggi non solo per gli investitori, sia debito che equiti, quindi sia chi ti presta i soldi sia chi investe nella tua azienda, ma anche per i tuoi clienti e sempre più per i clienti. Faccio un esempio appunto sul nostro business, siamo in ingegneria con 6.000 dipendenti, con i collaboratori siamo 10.000 persone, lavoriamo in tutte le geografie del mondo. Anche nelle geografie che oggi riteniamo siano più lontane da questi temi, Russia mi viene in mente, noi abbiamo un cliente importante che in ultima qualifica ha messo i criteri ISG come determinanti insieme ad altri per l'assegnazione di un grande progetto. Ma criteri ISG sta imparando diversity, quindi Russia diversity, che non è facile questa associazione oggi. Noi quindi dobbiamo poi fare un progetto, una proposta complessa e dobbiamo andare a trasferire questa complessità, questo requirement di informazione ai nostri fornitori e subfornitori. Magari un produttore di piombini, di tondini a Brescia, azienda familiare e dobbiamo andare a spiegare questa azienda perché è importante che ci dia delle informazioni sulla parte environmental, sull'ambiente, sulla parte social, sulla parte governance e questa situazione ci deve dare con un certo standard, con una certa cadenza, in un certo modo. Questa è la grande sfida che abbiamo noi oggi ma che ha il sistema Paese Italia, perché quando parliamo di aziende grandi o media aziende italiane, quindi sto posto a DNF, c'è una funzione interna che governa questi dati e affronta la complessità quotidiana, ma se poi allarghiamo invece l'attenzione alle aziende italiane in senso lato, non sono coperte da DNF, questo è un tema fondamentale, in altri Paesi europei stanno abbassando i criteri di complanza di DNF proprio per spingere le aziende a questo tipo di investimento e di scelta, ma è davvero difficile perché vuol dire poi convincere le aziende a dotarsi non solo di strumenti, che è fondamentale ma di professionalità e qui voglio spostare un attimo il ragionamento più a monte, che prima di investire su uno strumento che è fondamentale per gestire questa complessità, però un'azienda deve domandarsi perché lo faccio, quali sono i mistake holder, qual è il piano di breve e di lungo termine, comprendere quali sono le priorità, perché lo sto facendo per compliance perché sono sotto DNF, va bene, lo sto facendo perché voglio accendere a un green bond fra due anni, va bene, lo faccio perché devo stare attento perché ho un NGO che mi sta alle calcagna e devo dimostrare che mi sto comportando in maniera virtuosa su certi temi sociali, questo devo chiarire, una volta che l'ho chiarito posso anche permettermi di dire ok, mappo i flussi, mappo i processi, faccio una procedura, all'inizio la gestirò magari su Excel, però comprendo davvero quali sono i flussi, le persone coinvolti, i sistemi aziendali coinvolti, metto dei controlli e poi alla fine di questo processo ho tutti i dati per fare una scelta di investimento sulla piattaforma ISG digitale, ma avendo tutto questo diciamo sotto controllo, senza buttarmi in avanti, giusto perché lo sto, lo fanno gli altri, lo devo fare anch'io, no? A quel punto poi posso ottenere il massimo da queste informazioni e posso impostare un percorso evolutivo dicendo ok, io voglio accedere a un green bond, quindi devo fare un sistema ISG dove la parte in volamento è preponderante perché devo allineare la stazione europea, oppure voglio invece dare più peso ai dati social e questo anche con noi come gruppo lo stiamo facendo anche come percorso con i nostri fornitori per aiutare le PMI italiane proprio a dotarsi di questi strumenti che in fase di qualifica andremo a chiedere a queste informazioni e serviranno a noi poi per trasmetterle ai nostri clienti, in ultima analisi i nostri clienti sono spesso grandi player nell'oil and gas industry che si stanno allineando rapidamente a questo nuovo contesto e tutti assieme dobbiamo gestire questa complessità. Interessante, molto, tengo per il secondo giro la domanda che mi ha solleticato il discorso del produttore di Piombini di Brescia, adesso a parte gli scherzi, è tirato fuori temi estremamente rilevanti, quindi una riflessione, una conoscenza di quelli che sono i parametri da prima di tutto su cui si vuole giocare la partita e poi una volta conosciuti e assimilati avere le professionalità per riuscire a, come vogliamo dire, a distribuire, a integrare lungo la propria supply chain il ragionamento di quegli obiettivi e quindi su quello puoi costruire una macchina di reportistica e di certificazione. Faccio solo un ultimo commento, proprio per un discorso di filiera, noi stiamo lavorando con Animp, la situazione che aggruppa i costruttori impiantisti italiani, proprio per fare un lavoro di, diciamo, di training, di supporto. Ma questo te lo chiedo dopo, era il secondo giro, volevo arrivare qui, questo mondo di PMI, ti anticipo la domanda, questo mondo delle PMI che tu dici sono avanti, è una nostra ricchezza, dobbiamo portarle a un livello, come dire, di consapevolezza e della sostenibilità importante, come riuscite poi a integrarlo nella vostra, tra virgolette, reportistica verso il cliente russo che vi chiede, ma io voglio che voi mi garantiate che avete un certo livello ISG. Questa è la domanda che ti faccio al secondo giro. Te la faccio adesso ma la risposta arriva al secondo giro. Va bene, allora dicevo prima, ritorniamo nel mondo digitale, c'eravamo prima con Sgeo e torniamo al mondo digitale. Claudio Zamboni, voi con FinScience vi occupate di analisi di metadati, di ricerca di informazioni nel grande mondo di Matrix, scusa la metafora. Qual è la sfida oggi che dal vostro punto di vista sta affrontando il sistema, le aziende o il sistema in termini di digital governance? Sì, diciamo che torniamo al concetto di particella ISG che è un concetto a noi molto caro, in quanto riteniamo che oggi le informazioni siano presenti sotto forma di dato molecolare che deve essere raccolto e opportunamente analizzato e da cui derivare degli output su cui innestare poi delle decisioni nei vari contesti. Quindi questo perché oggi è importante? Perché richiede un approccio innovativo, il tema della governance dell'informazione. Beh, innanzitutto oggi siamo in un scenario che è profondamente cambiato negli ultimi anni. Qualche decina di anni fa il valore delle aziende era fondamentalmente legato a fattori tangibili, il dimensionamento di una flotta aziendale, il valore e la quantità di immobili o di edifici di proprietà dell'azienda e via dicendo. Oggi un'ottima porzione del valore di un'azienda è legata a fattori intangibili, la reputazione, la brand equity, il profilo di patrimonio intellettuale di un'azienda e quindi è legato a degli elementi su cui oggi però una disponibilità di informazione molecolare che deve essere aggregata e su cui può, come dire, si può derivare una certa quantità di significato di informazione appunto è esistente. L'altro elemento che è molto importante è la qualità dell'informazione. L'informazione oggi presente non solo come informazione interna, come informazione che affiglia diciamo di una narrazione che spesso, come dire, è anche legata a logiche di greenwashing dei settori, delle aziende, ma è un'informazione disponibile anche in relazione a quello che è il percepito degli stakeholder. In un contesto in cui, come dire, c'è uno shift pesante di investimenti, di operatori istituzionali, qualche anno fa la stragrande maggioranza degli investimenti in ambito sostenibilità erano legati fondamentalmente a operazioni o a prodotti finanziari di operatori istituzionali e oggi è molto legata alla distribuzione in ambito retail e quindi la necessità di ricondurre, come dire, la sintesi su cui poggiare le proprie decisioni a partire da informazioni molecolari, da partice all'ISG che siano basate non solo su una vista interna ma anche su una vista esterna, quindi andando a catturare le informazioni degli utenti, andando a catturare le reviews dei dipendenti di un'azienda, andando a analizzare le news, andando a analizzare i blog e andare a fare una sintesi, un'analisi e una sintesi di questi output, come dire, evidentemente si va a integrare a arricchire il patrimonio informativo su cui costruire poi delle strategie e dei racconti in ambito sostenibilità che oggi, come dire, è possibile attuare ma ieri non era possibile attuare e oggi rappresentano una novità. Quali sono le sfide rispetto a questo? Sicuramente la tecnologia oggi c'è, la tecnologia oggi è accessibile, oggi esistono piattaforme che integrano per esempio dati esterni con dati interni, che elaborano degli score basati su indicatori interni ed esterni riferibili anche a degli standard di valutazione. Quello sicuramente che è il passaggio complesso è dare sistematicità a questo processo, dare una struttura che permetta ad un'azienda di poter costruire uno sviluppo aziendale su queste premesse. Ecco quindi che, come dire, l'abilitazione, l'abbiamo chiamati poco fa Digital Hub o Data Hub, noi le chiamiamo Data Lake, l'abilitazione di sistemi di raccolta dati provenienti da tante fonti, la capacità di analisi basate su tecniche di intelligenza artificiale, parlo di machine learning, parlo di natural language processing e quindi l'internalizzazione di capabilities di analisi sono elementi chiaramente fondamentali. Il passaggio fondamentale in questo è un passaggio culturale, è un passaggio per cui da pochi anni siamo passati, come dire, da una condizione in cui l'informazione era patrimonio di pochi all'interno dell'azienda, un'informazione strutturata a un'informazione estremamente diffusa, parcellizzata e basata su dati alternativi non strutturati. Quindi diciamo che ci sono tre temi fondamentali. Uno, l'internalizzazione di capabilities in grado di utilizzare questi dati. Due, l'adozione di tecnologie che sono sia infrastrutturali da parte dell'azienda che sia in grado di raccogliere, immagazzinare e rendere azionabili i dati e la capacità di avere dei processi che rendano le capabilities in condizioni di poter utilizzare le infrastrutture e i sistemi di analisi ed elaborazione. Questi sono i passaggi fondamentali per una strutturale capacità di utilizzo dell'informazione molecolare di cui parlavi. Domanda rapidissima. Secondo te oggi c'è la percezione di questo da parte dell'azienda o se tu dovessi dare uno spaccato oggi quanto le aziende comprendono il giusto peso di questo genere di informazioni? Cioè informazioni endogene e informazioni che sono quelle che tu rintracci nella rete esogene? L'esigenza è piuttosto diffusa. Quando noi raccontiamo agli SG manager che è possibile avere dei sistemi di valutazione che poggiano non solo su una vista esterna ma che permettano di misurare il disallineamento di un racconto aziendale rispetto al percepito dello stakeholder, questo è un elemento che interessa enormemente. È evidente che in un percorso di adozione tecnologica c'è una classica curva di apprendimento che richiede che in questa fase siamo in una fase di evangelizzazione rispetto alle opportunità. Quindi oggi ci sono le grandi aziende che si stanno muovendo in quest'ambito, sicuramente stanno operando in termini di integrazione dato, di elaborazione avanzata, meno sull'opportunità di farlo con dati esterni e alternativi rispetto ai dati tradizionali. Ecco, quindi se oggi c'è una concentrazione già molto attiva sull'abilitazione tecnologica c'è un'opportunità molto meno sfruttata ma che pure alla mano perché i dati sono lì e possono essere azionati in maniera molto rapida sulla vista basata sui dati esterni, sul percepito degli stakeholder. Tipicamente questi dati vengono usati per logiche veramente molto verticali di solo reputation o sul marketing digitale o su altre... Te l'ho chiesto dopo questo, quali sono le tematiche più calde che si possono trovare esogene, quello che io ho chiamato esogene, che sono costruite al di fuori dell'azienda. Ok, Matteo, voi avete la percezione dell'importanza delle informazioni diffuse, numero uno. E numero due, come riuscite o come immaginate di gestire la vostra supply chain integrando un sistema di piattaforma di digital governance? Bella domanda, nel senso che è un tema che per noi è veramente strategico. Il collega di Meritechnimont poneva il tema della supply chain e io credo che il governo, la governance della supply chain sia uno dei fattori più strategici nell'ambito ISG e lo pongo da azienda pubblica che ha tutta una serie di vincoli e di paletti nella gestione della propria supply chain. Perché è vero il tema del produttore di tondini a Brescia è un problema reale, noi ce lo poniamo perché di fatto noi gestiamo un business che si approvvigiona quasi integralmente da medie aziende del territorio con produzioni tecnologicamente non particolarmente evolute perché movimenti terra, produzione di ferri eccetera eccetera e chiedere loro una disclosure di dati ISG è un tema significativo. Significativo perché? Per due ragioni, perché da un lato spesso e volentieri non c'è e quindi c'è effettivamente un percorso ancora da fare in gran parte di queste piccole e medie imprese che faticano a dare disclosure di alcuni dati non finanziari e dall'altro lato, ed è questo secondo me il tema che riguarda più la filiera dell'acquisto pubblico ma che non è banale proprio perché riguarda uno dei più grandi acquirenti e motori del mercato italiano è che in questa fase un'azienda come noi che anche se dotata di un rating nell'ambito degli acquisti al cui interno ha contemplato alcune valutazioni di natura ISG poi si trova in difficoltà a poterlo utilizzare in senso pieno perché il codice degli appalti è il codice degli appalti e io non posso discriminare un'azienda solo perché i suoi parametri ISG non sono conformi a quello che piace a me. E questo è un tema che abbiamo a lungo discusso in azienda perché c'è stato un ampio confronto interno in cui la funzione ISG è risultata perdente contro il codice degli appalti perché questo è un tema, il codice degli appalti ha alcuni elementi, i CAM, i famosi CAM che consentono di garantire gli acquisti ambientalmente sostenibili però sono tutti legati a delle certificazioni e delle valutazioni di parametro di prodotto e non dell'organizzazione che te lo vende il prodotto e questo è un tema e faccio riferimento anche a quello che diceva il collega perché è veramente molto interessante nel senso che oggi chi è nelle mie funzioni mi occupo sia dell'ambito di sostenibilità che dell'ambito reputation l'uso dei dati, dei data leak esogeni per valutare le reputazioni sia della nostra azienda che dei partner con cui entriamo in contatto avviene dal punto di vista reputazionale avviene meno dal punto di vista della valutazione ISG la valutazione ISG cioè quella un pochino più standardizzata quella di cui ti chiedono anche conto i tuoi stakeholder e i tuoi clienti o i tuoi investitori Fabrizio banalmente la creazione di una struttura di questo genere all'interno dell'ambiente come viene vissuta in termini di onere e anche di costo monetario? Sì sicuramente sta cambiando il mercato in maniera radicale perché evidentemente si sta creando un'esigenza che su questo tavolo è evidente quindi le aziende devono dotarsi di strumenti parlavamo appunto prima ancora di dotarsi dello strumento devono capire l'importanza di gestire queste variabili qui faccio un po' degli esempi concreti noi abbiamo grossi gruppi a quale abbiamo sviluppato tecnologia per permettere alle piccole aziende che ci trovate prima di raccogliere pochi dati ma utili all'azienda per definire la materialità dei propri impatti quindi nel momento in cui io sono fornitore di una tecnologia che permette alla grande azienda di raccogliere tutti i propri GRI secondo i principi standard o standard diversi come SASB abbiamo aziende che raccolgono informazioni sia sotto gli standard internazionali GRI e sotto i SASB americani perché magari hanno sede negli Stati Uniti in più aggiungo la componente materialità o impatto del fornitore all'interno della stessa piattaforma io ho la possibilità di accedere sostanzialmente al fornitore tramite magari una SARVE dove vado a chiedere cose che il fornitore anche facilmente può raccogliere è vero che hanno tante difficoltà ma se mettono in fila le quattro bollette che hanno speso energia elettrica e vedono il contratto che hanno se raccolgono i litri che le schede carburante delle auto hanno sostanzialmente consumato sono in grado di darmi un CO2 diviso fatturato che è il tipico parametro che viene chiesto da un'azienda al proprio fornitore oppure il rapporto di donne e uomini o la quantità di ore di formazione media sono dati che se un'azienda non te li fornisce è perché non ha proprio la volontà di rimanere un tuo fornitore quindi questo si sta innestrando nel senso che tutti i grossi gruppi chiedono queste cose ce l'hanno all'interno le proprie metriche e le gestiscono di nuovo qual è lo sforzo? lo sforzo è di fare la scelta giusta perché ovviamente se io sostanzialmente mi pongo il problema di fare tutto questo da zero, foglio bianco e sviluppare all'interno di qualcosa che in azienda non ho visto non conosco ha uno sforzo economico di tempo e di risorse all'interno dell'azienda enorme perché devo spiegare cosa devo fare eccetera sicuramente ripeto ci sono delle vie molto più veloci che noi chiamiamo di digital jump per arrivare nel giro di settimane ad avere uno strumento che fa tutto poi riallacciando un po' il discorso dell'intelligenza artificiale mi piace sempre magari arrivare nel concreto noi oggi abbiamo aziende in Italia molto avanti sulla materialità che fanno queste cose che leggono automaticamente i tweet delle persone che hanno un'influenza sulla sostenibilità leggono automaticamente il World Economic Forum il sito, l'ONU, dei paper e riescono a percepire l'importanza dei temi che stanno giudicando e del posizionamento della propria azienda so tecniche che abbiamo sviluppato per società in Italia e che oggi sono molto avanti il futuro è evidentemente lì perché poi il tema dell'intelligenza artificiale dell'intelligenza sostenibile torna all'origine a quello che tu hai descritto prima come ho bisogno del dato perché ci sono ad esempio variabili che conosciamo tutti come la residenza dei membri del board e la residenza dell'azienda o il turnover del board che sono variabili che spesso accendono le lampadine su una possibile controversia noi sappiamo negli Stati Uniti negli ultimi due anni le ultime 20 controversie non finanziarie sono costate oltre 20 miliardi l'una quindi quando parliamo di queste cose parliamo anche di valore economico valore finanziario quindi se io ho una capacità di intercettare il rischio che un'azienda può avere una controversia di corruzione piuttosto che di impatto ambientale io sono in grado anche di estrarre valore quindi sono tecniche che oggi effettivamente aggiungono tanto valore agli stakeholder che devono fare delle decisioni queste tecniche ci aiutano anche a creare e a valutare un impatto delle piccole aziende perché io so cosa fa quell'azienda dove lo fa e con quali metriche finanziarie le fa queste informazioni sono già ricche e sufficienti a dire qual è l'impatto di quell'azienda l'azienda che citavamo prima di Brescia io già so per quanto possa essere brutta o virtuosa già so qual è il suo impatto e questo è lo starting point fondamentale perché è inutile che vada a raccogliere le informazioni che devo raccogliere da quell'azienda senza pormi prima questa domanda ma per quello che fa e dove lo fa in Italia qual è il suo impatto esistono anche qui delle tecniche che valutando aziende quotate metriche di aziende quotate mi permettono già di valutare questo impatto senza neanche fare la domanda all'azienda poi vado lì e gli chiedo CO2 quanta ne consumano gli chiedo qual è il rapporto uomini e donne qual è la formazione che fanno raccolgo i miei cinque parametri che per me sono materiali per i miei fornitori e a quel punto c'è uno score automatico del fornitore questo è quello che abbiamo fatto si fa, cioè esiste ed è già tangente non costa una follia perché sono tecniche ormai standard sono tecniche standard ma l'impianto digitale la costruzione della piattaforma non è quello tu mi stai dicendo non è quello il peso dell'investimento ma è la costruzione quindi è della squadra che comprenda faccia l'analisi di materialità e magari anche esattamente noi ci siamo posizionati sicuramente abbastanza distrappi sul mercato nel senso che l'accessibilità al tool che ha dentro tutto a tutti gli standard internazionali ha già le tabelle quindi io da utente prendo una cosa che devo solo gestire nei dati e eventualmente integrare su piattaforme perché esistono già i dati ha una soglia d'ingresso che è veramente molto molto accessibile quindi ed è lontanissima dall'idea di svilupparmi in casa qualcosa da zero quindi la scommessa che abbiamo fatto è stata proprio questa di essere sostanzialmente distrappi nel fornire qualcosa di certificato secondo i gerai standard è già fruibile a tic con zero ok Giancarlo ti avevo già anticipato la domanda come si porta il produttore di acciaio di Tondini di Bresciano allineato alle esigenze di rendicontazione come dire della capofila della filiera e aggiungo una complicazione alla domanda quanto è importante il tempo nel senso hai fatto l'esempio del cliente russo che ti chiede un equilibrio di diversity nel progetto immagino che questo non aspetti l'anno successivo per avere questi dati allora faccio anche qui un ragionamento sempre legato alla filiera italiana di cui fa parte il famoso produttore di Tondini di Brescia l'approccio che abbiamo avuto nella nostra esperienza che è stato un approccio per adesso vincente poi siamo nella fase più critica adesso di deployment se vogliamo di implementazione però è stato per poter diciamo affrontare questa complessità e portare questi operatori PMI a seguirci in questo progetto non potremmo farlo da soli allora a livello di Animp ci siamo interrogati con tutti gli altri grandi diciamo contractor italiani abbiamo detto alla fine nelle qualifiche SG le informazioni che chiedo io a Mare Tecnimont sono al 95% le stesse che chiede Tecnip Saipem ho chiesto facciamo a questo punto davvero un documento metodologico di quelle che sono le informazioni che ci servono poi che sia che la gara vinco io la vinci tu poi lì è un discorso commerciale ma le informazioni sono quelle da questo documento metodologico tecnico andiamo a sviluppare un qualche cosa che ci permetta poi di avere uno strumento di qualifica che sia standard per la nostra diciamo filiera in Italia e a quel punto quello strumento lo diamo ai nostri fornitori gratis nel senso cioè lo finanziamo noi come contractor e gli diamo anche un training su questo e questo strumento servirà per vincere la commessa con noi che poi noi vinciamo la commessa con il nostro cliente ma servirà anche poi in futuro per questo fornitore per andare da una banca e quella banca magari come certe banche italiane stanno già facendo questo percorso coraggioso comincerà a incorporare nel costo del diciamo del finanziamento della garanzia anche una componente non finanziaria quindi anche su quel lato l'imprenditore vedrà un vantaggio di questo investimento adesso siamo nella fase critica del progetto in cui dobbiamo abbiamo l'oggetto dobbiamo convincere la filiera delle aziende comunque a fare un investimento di tempo di energie per seguirci in questo progetto questa secondo me è la strada vincente qui faccio un ragionamento più strategico questo approccio e questa attenzione a questi temi che abbiamo in Europa anche con l'U Green Deal è un fattore strategico distintivo che ha il continente Europa rispetto al resto del mondo perché per fortuna nostra in questo momento gli Stati Uniti per varie vicende ben note anche di diciamo di priorità che stanno dando altri temi l'ambiente non è prioritario la Cina ha una logica diversa il Giappone ha una logica diversa la Commissione Europea l'Europa e l'Italia in questo momento può giocare davvero un fattore distintivo che abbiamo perso in altri settori cioè sulle tecnologie poi spero di sbagliarmi ma sull'Artificial Intelligence sui cloud siamo drammaticamente indietro sulla sostenibilità l'Europa è avanti e possiamo capitalizzare su questo partendo davvero dalle nostre filiere questo è un po' sono molto d'accordo con te non solo addirittura l'Italia ha un vantaggio potenziale enorme su questo fronte un'idea che ho sempre sottolineato l'idea di avere una struttura che ha le potenzialità di sostenibilità maggiori di altri sistemi industriali il più è riuscire a coordinarla valorizzarla e spenderla sul mercato cioè immagino a questo universo di piccole e medie imprese all'universo dei distretti alla capacità di essere integrati con il territorio anche alla storia artigianale di certe industrie lo trovo come dicevi tu a livello europeo senz'altro è la costruzione di un futuro competitivo in questo ambito l'Italia ha addirittura delle carte ulteriori da giocarsi quindi sono molto d'accordo su questa tua visione e trovo anche molto interessante questo esperimento voi state di fatto creando degli standard ISG per la vostra filiera cioè l'ANIP ISG standard vogliamo chiamarli in qualche modo adesso qui chiaramente è un po' ambizioso diciamo noi lo facciamo per le qualifiche diciamo ISG che servono ma la cosa interessante che vorrei raccontarvi in due minuti perché è una riflessione che penso sia utile interessante per tutti è che questa scelta di mettere a fattore comune questi diciamo criteri significa rinunciare a una sovranità che è un termine di moda importante da parte dell'azienda sino a vent'anni fa andare da un ufficio acquista e dire guarda che dobbiamo metterci d'accordo con il nostro principale competitor per come valutare le aziende mi abbiamo riso in faccia in questo momento ci siamo messi tutti i primi sei operatori e abbiamo detto che rinunciamo alla serie di informazioni che prima era un know-how interno all'azienda lo mettiamo a fattore comune con gli altri però oggi è che il peso che daremo ai fattori ISG lo valuteremo internamente per le nostre scelte ma le regole del gioco le condivisiamo e parte dell'informazione le condividiamo e questo è un approccio che per il futuro è sempre più importante per la... ottimo è un approccio anche questo che condivido tanto è vero che la slide che ho fatto vedere all'inizio la terza immaginava la creazione di un hub centrale di questo tipo di informazione adesso voi probabilmente non le metterete in hub le informazioni che avete però la prospettiva è che il sistema trovi a sua volta dei motori di accesso per la condivisione dell'informazione questo renderebbe tutto molto più competitivo Claudio allora eravamo rimasti su un discorso queste ISG leak vogliamo chiamarli così quali sono oggi le tematiche che voi vedete più chiave o più calde nella vostra osservazione di questo genere di informazioni diffuse sicuramente ci sono due tre fattori che sono più interessanti o comunque più innovativi nell'introduzione di questi temi per le aziende centrale è l'elemento del monitoraggio quotidiano dell'informazione o comunque dell'andamento delle metriche di riferimento quotidiano diciamo o su una base mensile oggi molte delle valutazioni in termini delle prestazioni in ambito sostenibilità dell'azienda sono basate su informazioni ad esempio che sono raccolte su base annuale che vengono utilizzate su questo periodo temporale ecco quindi l'opportunità di poter lavorare con piattaforme di monitoraggio dell'andamento dei parametri fondamentali di sintesi ISG è sicuramente un tema estremamente centrale quindi la continuità di monitoraggio basata sull'ingestione continua di dati l'altro elemento fondamentale è appunto come raccontavo prima è l'arricchimento dell'informazione che non c'è solo nell'ambito delle viste esterne anche in riferimento alle informazioni aziendali oggi si è in grado di avere un arricchimento delle informazioni come dire passivo che proviene dall'analisi di sistemi di informazione che l'azienda ha parlo della comunicazione siti aziendale chiaramente tutte le comunicazioni relative al report di sostenibilità informazioni che sono legate per esempio a proposte in ambito ISG all'interno di consigli di amministrazione e quant'altro quindi tutto ciò che viene verbalizzato ed è documentale all'interno di un'azienda oggi può essere analizzato e contribuire ad arricchimento dell'informazione di patrimonio informativo interno dell'azienda quindi questo come secondo fattore un elemento determinante che penso che sia centrale sia nella necessità di ricondurre questo patrimonio molecolare di informazione a degli elementi di sintesi che fanno riferimento agli standard di valutazione quindi in questo senso come dire nel momento in cui si ha grande patrimonio informativo da analizzare e vengono derivati degli output questi devono essere associati tipicamente nella fattispecie noi abbiamo fatto rispetto a 400 indicatori questi indicatori di sintesi devono essere per forza riferibili ed associabili a loro volta a come dire quelli che sono i fattori sottofattori dei sistemi di valutazione di riferimento noi come dire prendo per esempio l'agenda ONU 2030 si basa sugli SDGs sono 17 fattori e 169 sottofattori noi nella fattispecie abbiamo creato un come dire layer di traduzione da quelle che sono le informazioni che raccogliamo la loro sintesi in output informazionale che è associabile agli indicatori che sono linkati a loro volta in maniera univoca o come dire non univoca a uno o più diciamo sottofattori di riferimento ecco quindi la capacità di valutare il contributo delle azioni aziendali a ogni singolo fattore ESG e di valutare la distanza che c'è rispetto al percepito esterno secondo me questo è un elemento decisivo nella capacità di condurre in futuro come dire le pratiche ESG dell'azienda cloud è diffuso sì ma la necessità di riportare tutto questo all'interno ancora di caselle che siano condivisibili anche in termini di comprensione con l'esterno è assolutamente standardizzato ragazzi siamo arrivati lunghi se mi date una parola chiave sul futuro della sostenibilità ve lo consento ma una parola fate questo sforzo cominciamo da Matteo una due parole è la migliore promessa che possiamo fare alle prossime generazioni del pianeta bravo mi piace Fabrizio io voglio tornare all'italianità credo che veramente abbiamo uno spazio enorme grazie alla nostra cultura di poter affermarci sul mercato dobbiamo capirlo e comunicare questo ottimo Giancarlo Energy Transition tutto questo poi si porta dietro un tema di transizione verso una economia sganciata dal diciamo dal petrolio e anche questo l'Italia può fare tantissimo l'ISG fa parte di questa rivoluzione mi piacciono? vai chiudi Claudio i sistemi sono interconnessi su scala globale la I non è isolata fa parte come dire di un mondo e qui I è interconnessa S interconnessa oggi c'è bisogno di integrare i dati di arricchire le informazioni di elaborarli su una scala che prima non era possibile quindi come dire il via a pratiche di adozione tecnologica più spinta bene allora io ringrazio i nostri redattori i redattori di questo slot devo dire abbiamo secondo me affrontato in maniera molto approfondita una tematica complessa difficile ma l'abbiamo anche portata a terra e siamo stati capaci per prendere le parole tue finali di interconnetterci con gli ascoltatori chiudo siamo direi chiudiamo esattamente alle ore 12 ringrazio anche chi ci ha seguito e lascio a voi auguro a voi un buon resto di giornata e a chi ci segue un prosieguo con il salone della CSR grazie a tutti e arrivederci alla prossima alla prossima comp grazie arrivederci grazie 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 grazie